Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come vedete sono già truccata, ovviamente avrete già visto come sempre dal titolo del video quale sarà il tema di appunto questo video Wow, che bell'intro! Ok, iniziamo subito Voglio mettere a paragone due fissanti, va bene, questo video è iniziato benissimo, ok Voglio mettere a confronto due fissanti make up che hanno un prezzo anche un po' diverso e uno è molto molto conosciuto, l'altro non l'ho mai utilizzato e non ho mai sentito nulla riguardo a questo fissante spray Partiamo dal primo, ok, il fissante di MAC che è il famosissimo Fix Plus della linea Prep & Prime di MAC che è questo qui, lo conoscete tutti quanti, ce l'avrete visto ovunque chiunque utilizza questo fissante può essere utilizzato prima del trucco, dopo il trucco può essere utilizzato per bagnare gli ombretti, per bagnare la spugnetta, non so, ci sono tantissimi modi per utilizzare il Fix Plus La bottiglia è da 100 ml e il prezzo, se non sbaglio, è ok di 18,50 euro, sono sul sito di MAC Le caratteristiche di questo fissante ve le leggo direttamente dal sito di MAC Praticamente lenisce, rinfresca la pelle, idrata, rafforza la durata del make up, testato dermatologicamente, testato oftalmologicamente non comedogeno, queste sono le caratteristiche che ci scrivono loro Mi piace molto che si chiuda in questo modo, cioè non c'è il tappino Se lo giro così ovviamente non posso spruzzare, vi immaginate adesso direttamente sull'obiettivo della macchinetta Se invece lo giro in questo modo ovviamente il fissante funziona normalmente Mi piace molto lo spray, forse neanche lo vedete, comunque diciamo non va a fare tante goccioline sul viso anche se dovete stare attenti, non dovete spruzzarlo da troppo vicino ma dovete comunque estendere tutto il braccio altrimenti andate a fare le goccioline sul viso Lo utilizzo da tantissimo tempo, mi piace un sacco soprattutto quando voglio rinfrescare il mio trucco, quando voglio una botta di vitalità sul mio viso L'altro spray invece è di Revolution Pro di Makeup Revolution e si chiama Supreme Hold Finishing Spray ed è praticamente questo qui questo qui l'ho preso sul sito di Revolution Beauty anche questo è un 100ml e il prezzo è di 6,99€ capite bene che è molto differente sul sito di Revolution Beauty non dice nient'altro oltre a fissa il trucco, questa è l'unica caratteristica di questo spray però ovviamente se ci aiuta a prolungare la durata del nostro trucco figata possiamo utilizzarlo magari quando abbiamo dei giorni particolari in cui il nostro trucco deve durare tantissimi ore o comunque in generale tantissimi mi chiedete un fissante spray economico che funzioni bene quindi oggi li mettiamo a paragone per vedere se questo di Revolution Beauty ha qualcosa da invidiare a quello di MAC sulla parte sinistra del mio viso andrò ad utilizzare quello di MAC e farò in questo modo, utilizzerò una palette per coprire l'altra metà del mio viso ovviamente come vedete stendo il braccio e lo vaporizzo ad occhi chiusi aspetto un secondino che si asciughi passo alla parte destra una cosa che non vi ho detto questo se vi ricordate l'ho comprato tanto tempo fa ma ho sempre da provare tantissime cose e quindi alla fine non riesco a testare tutto appena lo compro c'è lo spruzzino che non so come può lavorare non mi sembra proprio un granché però vediamo proviamolo applicato sul viso visto che mi sembra di non averlo provato neanche il giorno in cui ho fatto il video copro la metà sinistra del mio viso me lo sono spruzzato anche sulla maglietta l'odore di questo fissante mi ricorda l'odore dell'acqua ossigenata non lo so perché quello di MAC mi piace molto trovo sia molto rinfrescante anche a livello di odore non di sensazione non soltanto di sensazione questo invece mi sa proprio di acqua ossigenata sul viso trovo sia un pelino troppo aggressivo lo spray però vabbè fa niente se dobbiamo farlo lavorare lo facciamo lavorare tranquillamente non sono questi problemi facciamo un piccolo zoom sul mio viso scusatemi se ho qualche problemino di luce ma ancora devo capire quali sono i setting della macchinetta giusti per la luce che ho qui comunque non vedo nessuna differenza tra le due parti quindi mi sembra si siano comportati molto bene entrambi l'unica cosa che sono curiosa di vedere è la durata del trucco cioè cambierà la parte destra da quella sinistra proverò a testarlo fino a stasera che non vado a dormire così vediamo se ci sono differenze tra le due parti del viso calcolate che i prodotti che ho utilizzato oggi sono tutti prodotti di cui mi fido ciecamente che so che lavorano bene quindi spero riusciremo a vedere una differenza tra le due parti del viso sono curiosa di sapere se qualcuno di voi ha utilizzato non tanto quello di MAC perché quello di MAC già so che mi piace ma quello di Revolution Pro quindi scrivetecelo in un commentino qui sotto soprattutto se avete una pelle mista grassa perché su una pelle secca il trucco dura un pochino di più rispetto a quella grassa che tende a sciogliere un pochino appunto il trucco quindi scrivetecelo con un commentino qui sotto per il momento questo è tutto ci aggiorneremo a metà giornata e a fine giornata per vedere che cosa succede sulle mie due parti del viso sono passate tantissime ore da quando ho girato il video ma sono ancora qui al computer a fare le solite cose quindi oggi vi dico già che non ho fatto nulla di particolare cioè ho fatto un sacco di cose ma tutte al computer quindi la mia giornata non è stata movimentata la luce forse è troppo sparaflesciata ok forse così dovrebbe andare bene allora vi dico già che secondo me questo setting spray si sta comportando molto bene anche se sono curiosa di vedere come si comporta su una pelle grassa non vedo nessuna differenza tra le due parti ditemi voi se magari riuscite a vedere qualche minima differenza dalla parte destra a quella sinistra io non ci riesco l'unica cosa ma proprio ad andare lì con la lente di ingrandimento qui sulla fronte la parte destra mi si è leggerissimamente lucidata cioè da 1 a 100 diciamo 3 veramente è una cosa impercettibile quindi secondo me si sta comportando molto bene non vedo vi ripeto nessuna differenza però vi dico anche che è una pelle normale quindi su di me tutte queste differenze probabilmente cioè anche se non avessi applicato nulla dalla parte sinistra non si sarebbero viste secondo me così tante differenze quindi scrivetemi assolutamente qui sotto come vi siete trovati voi che avete provato questo setting spray la giornata va avanti per altre tante ore Giulia continua a stare al computer per altre tante ore ci aggiorneremo questa sera il più tardi possibile per vedere se ci sarà qualche differenza dalla parte destra a quella sinistra allora ragazzi ormai è praticamente sera molto molto inoltrata forse sentite anche l'eco qui quindi cercherò di parlare più piano per non creare un effetto strano poi dell'audio e la luce non è delle migliori qui dentro però più o meno vedete l'effetto calcolate che sono tantissime ore che porto il trucco e che ho messo i due diversi in setting spray quello che ho notato è che non noto nessuna differenza neanche arrivata a quest'ora della giornata quindi quello che vi dico ancora una volta ho bisogno del vostro aiuto e delle vostre recensioni e opinioni quello che posso dirvi è che sicuramente questo setting spray si è comportato abbastanza bene ma diciamo la cosa fondamentale è che non ha creato effetti strani non si è comportato male di questo ne sono sicura per quanto riguarda durata del trucco lo fissa di più rispetto a che se non lo si porta questo non ve lo so dire perché vi ripeto non noto nessuna differenza tra le due parti del viso quindi alla fine posso dire che si è comportato come il fix plus di MAC sulla mia pelle e sul mio trucco oggi spero che questo video vi abbia tenuto compagnia spero che in qualche modo vi possa essere stato utile anche se mi dispiace non aver notato altre differenze cioè altre alcuna differenza vi ringrazio come al solito di aver guardato il video vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao